ancora una volta insieme il buongiorno dalla redazione di news cappuccino broche l'informazione di mattina presto 6 e mezza puntuali in diretta replica 8 e 30 con lo sfoglio l'analisi dei giornali in edicola il buongiorno anche il ringraziamento per tiziano campigotto che è già pronto in regia infatti ci aiuterà ci accompagnerà grazie alla parte tecnica diamo il saluto e l'augurio per l'8 marzo 2022 a tutte le donne che ci stanno seguendo in particolare le nostre telespettatrici detto questo andiamo con la rassegna stampa ricordiamo anche il numero quindi della possibilità proprio di interagire inviarci un messaggio un commento considerazione su quelli che sono i temi che andremo a trattare mediante il numero 327 94 39 574 apriamo subito con le prime pagine giornali in edicola partendo da quelli regionali e quindi messaggero veneto si parla subito in apertura di economia in fvg abs ferma la produzione fantoni e pittini rallentano blocco per il costo delle energie ma anche a causa del reperimento delle materie prime per poi ancora l'immagine centropagina del messaggero l'italia dei paesi ostili mosca cessate il fuoco per i corridoi umanitari in questo decreto proprio a firma di mosca putin inserisce l'intera europa proprio tra i paesi nemici ostili così come definiti compresa l'italia spalla di sinistra il dramma dei profughi se ne continua a parlare civili non credono alla tregua continuano a spararci addosso queste le loro parole la storia invece il bambino eroe a 11 anni che ha percorso ben mille chilometri da solo festa della donna oggi 8 marzo l'attivista iraniana 8 marzo non è uguale per tutte poi quando in fabbrica le operaie erano vittime di abusi l'approfondimento il commento a cura di giuseppe mariuz andiamo invece sulla spalla di destra c'è la cronaca dalla provincia andiamo alla vedere insieme medici che protestano così si cancellano le aree di emergenza sotto il sindaco monticolo avverato la nuova giunta di torviscosa nella bassa friulana vediamo pure l'immagine del neo eletto sindaco dopo il ricorso cade in montagna cronaca scivola per oltre 200 metri è grave un escursionista recuperato ieri e li trasportato all'ospedale si infortunò a casa di una a causa di una radice il comune di amaro dovrà risarcire la persona taglio alto del messaggero veneto ancora due ulteriori notizie la prima legata al governatore della regione fedriga che lancia un appello a governo unione europea per un nuovo pnr più fondi pubblici frena la discesa dei contagi secondo gli esperti il virus rialza la testa ma andremo a vedere nel bollettino all'interno che i posti letto delle persone ricoverate sono sempre pochi nove in terapia intensiva il gazzettino ancora buongiorno le prime pagine subito in diretta la regione teme un attacco hacker il titolo d'apertura del quotidiano timori di ritorsioni informatiche proprio dalla russia è pronto un decalogo sia per enti e comuni alto rischio di vulnerabilità è stata chiesta una conferenza urgente sulla cyber sicurezza con il ministro kolau per stabilire quelle che saranno poi le strategie anche di protezione ucraina troppa generosità il sindaco chiede lo stop agli aiuti dei 150 profughi ucraini censiti in friuli figli degli ultimi arrivi 40 sono proprio nella città di pordenone nuove frequenze così da oggi cambia il canale delle televisioni parliamo del digitale terrestre per vedere le tv legate alla nostra regione sarà necessario attivare la ricerca automatica insomma risintonizzare presto il decoder peste suina imprese in allarme per i prezzi dei prodotti di carne il centro pagina vediamo subito una immagine torniamo ancora una volta su quella che la giornata importante oggi con un pensiero a tutte le donne l'augurio festa della donna paola del p del din 98 anni di lotte per la libertà e il titolo sotto medaglia d'oro e l'otto marzo inutile a suo dire dice così la partigiana con il nome di battaglia renata medaglia d'oro al valore militare è un giorno come gli altri così lei lo definisce il caso ancora profughi il presidente fedriga convoca i press i prefetti dice aumenteranno notevolmente serve maggiore sicurezza ed organizzazione la storia e il friuli disse no all'impianto del gas contro gli sprechi abbiamo consorzio al lavoro per per contenere i costi nebolletta questo l'obiettivo almeno secondo il gazzettino riportato oggi del consorzio della pianura friulana abbiamo ancora tre notizie flash in breve nel taglio alto del gazzettino la prima aida tagliente legge i diari del carcere del reporter gollia nelle scuole presentata la prima costituzione a fumetti il calcio serie a ludinese si è rilanciata grazie agli esterni ala andiamo ora a vedere invece la prima pagina legata al quotidiano il piccolo oggi torna ancora una volta ad aprire per quanto concerne una grande immagine e ancora il conflitto la guerra in europa residenti della città martoriata di irpin come vediamo subito nello schermo che tentano di fuggire attraverso attraversando questo ponte distrutto da pesanti bombardamenti proprio nelle ultime ore il titolo in grande le bombe e la tregua gli attacchi ancora una volta su civili per quanto riguarda sera mosca che annuncia il cessate il fuoco per i corridoi lo vedremo insomma anche questa mattina alle ore 8 italiane ma lo apprenderemo nelle notizie dell'ultima ora tra pochissimo 13 decessi invece in un panificio si allarga l'emergenza profughi mosca inserisce l'italia nei paesi ostili così la definisce putin il in breve sotto abbiamo il simbolo l'ultimo ponte della città di irpin se cade quello la capitale persa mille chilometri senza genitori questo è il viaggio di adam un piccolo eroe diplomazia erdogan chiama il presidente russo draghi sprona l'unione europea molinari mosca non potrà reggere l'isolamento deciso da tutto l'occidente la spalla di destra ci porta invece con le cronache alcune notizie che ci arrivano dalla città di trieste la prima è questa tariffe non pagate triestina e pallamano tra le società morose passaggio pericoloso in piazza goldoni abbiamo un dibattito in municipio e ancora l'appello la questura convochi gli amici vicini di lilli e sebastiano ancora una volta il caso liliana resinovic come vediamo nell'immagine insieme a sebastiano chiudiamo con coppia rapinata in via montecengio entrano in azione i ris ancora due notizie taglio alto a completezza della prima pagina del piccolo dalle nonne agli infermieri tanti volti della solidarietà e poi i fidanzati divisi dal conflitto si riabbracciano proprio sul confine uno sguardo al corriere della sera e anche la stampa per vedere di cosa si occupa ma soprattutto come decidono di aprire oggi sempre con la guerra in europa questo il focus di tutti un po i giornali nazionali si torna con queste parole e decreto proprio di putin dice l'italia è il paese ostile lista nera per quanto riguarda la nostra nazione nella proprio lista di mosca contro l'intero occidente cari armati intanto a kiev i negoziati non decollano 1,7 milioni è il numero legato ai civili che stanno fuggendo dai combattimenti abbiamo il pacifista cinico le riflessioni alla pagina 34 e poi ancora sotto invece l'immagine di profughi persone che fuggono ci sono all'interno oggi tutte le storie e i perché soprattutto del conflitto che stiamo raccontando ormai da diversi giorni reportage le truppe l'avanzata mortaie missili per l'assedio della capitale la russia si isola via da internet dicono la chiesa il patriarca benedice la guerra anti gay così la punto va ad appellare e poi sotto invece abbiamo la stampa oggi apre con un'immagine oggi 8 marzo 2022 eccola qui il volto è ancora con i colori insomma per quanto concerne il paese dell'ucraina donna ucraina proprio è il titolo che vanno a dare poi sotto ancora il commento la riflessione dedicato a loro questo per quanto concerne ancora una volta l'apertura di oggi legato la nostra rassegna stampa 8 marzo come detto quindi pronti per l'approfondimento tra poco tra meno di due minuti noi ripartiamo andiamo a vedere un pochino quella che è stata la giornata di ieri grazie ai giornali oggi ne dicono ma andremo ad apprendere leggere anche i primi messaggi che già ci stanno arrivando ricordiamo il numero 327 94 39 574 ripartiremo dopo un qualche piccolo spot con qualche notizia in diretta della notte sempre che ci arriva live dalla ucraina a tra poco diamo il buongiorno alle persone collegate con noi rimangono collegate con noi meglio dire sui social network e quindi salutiamo coloro che ci seguono su facebook youtube e poi nei vari streaming e quindi sui vari siti web grazie proprio ad internet ancora tanti auguri a tutte le donne l'abbiamo detto l'ho detto già un paio di volte questa mattina leggendo anche un paio di notizie legate a questo ci ricordiamo insomma di tutta le donne per questo 8 marzo poi andremo ad approfondire anche il coppio con delle news legato a questo buongiorno marco buongiorno a tutti vedo tanti tanti messaggi che continuano ad arrivare davvero tanti ma volevo andare a pescare un po quelle che sono le notizie dell'ultima ora con le quali dobbiamo assolutamente poi ripartire al rientro dalla pubblicità ricordiamo che sul canale 11 del digitale terrestre sta andando un attimino di spot quindi un minuto e mezzo circa di tregua così di respiro perché riusciamo anche ad apprendere i messaggi fare qualche saluto e poi tornare rigorosamente in diretta vedo che ci sono già le flash news dell'ultima ora chi aveva ucciso alto comandante russo a kharkiv russia unita nazionale nazionalizzare fanbreche straniere poi russia pronti a cessato il fuoco questa mattina bbc forti esplosioni udite a odessa vediamo questi sono i principali titoli col quali ripartiremo davvero tra poco appena avrò un cenno da parte di tiziano però vedo anche già tanti messaggi per quanto riguarda whatsapp persone che ci stanno salutando altre che stanno intervenendo proprio in merito al titolo anche di oggi quello che abbiamo appreso in tutti i giornali lo sapete l'italia si trova in quella lista tra virgolette nera inserita da bosca da putin così detto paese ostile insieme a tantissimi altri insomma un po tutto quello che è la formazione legata alla nato tra un po dobbiamo ripartire in televisione faccio un saluto alla florence che già mi aveva mandato un messaggino alle 6 e 29 6 e 30 ancora prima di partire per questo la ringrazio tanto grazie carissima florence anche per la tua presenza così come anche vado a salutare la elisabetta di codroipo che dice roberto buongiorno sono ore di angoscia e d'ansia per quello che succede in ucraina grazie per tenerci aggiornati figurati è un piacere farlo insieme a voi tutte le mattine ora però mi devo interrompere e riprendiamo l'informazione sul canale 11 del digitale ancora news capoggino brioche diamo il buongiorno alle persone collegate con noi siamo live in diretta alle 6 e 43 del mattino 8 marzo ancora tanti augure tutte le nostre telespettatrici e le donne che ci stanno seguendo prima di ripartire abbiamo già visto e assumiamo anche le prime pagine oggi in edicola nei vari giornali sia quotidiani della regione ma anche nazionali andiamo con qualche notizia della notte quindi aggiornamenti in tempo reale dell'ultimo ora l'ultimo di due minuti fa è questo chi è stato ucciso un alto comandante russo a karkiv i servizi di intelligence ucraini affermano di aver ucciso a karkiv il generale russo gerasimov vice comandante della 41esima armata interforze russa durante un combattimento la notizia la cui veridicità non può essere verificata in modo indipendente è stata rilasciata da vari social ucraini compreso il kiev indipendente su un tweet in cui si dice che gerasimov era stato decorato per aver conquistato la crimea altre notizie dell'ultima ora è russia unita a nazionalizzare fabbriche straniere il partito del presidente vladimir putin ha proposto la nazionalizzazione degli impianti produttivi delle compagnie occidentali che hanno sospeso le attività del paese ancora due cose flash russia pronti a cessare il fuoco questa mattina la russia ribadisce pochi minuti fa di essere pronta a cessare il fuoco per consentire corridoi umanitari in ucraina dalle ore 10 di oggi a ora mosca ore 8 italiane lo riferisce la bbc citando media statali russi che riportano le dichiarazioni ufficiali del ministero della difesa quindi lo stop questa mattina alle ore 8 del mattino ultima cosa brevissima bbc ancora riportano pochi minuti fa forti esplosioni udite a odessa nella città portuale del sud dell'ucraina sono state udite quattro forti esplosioni provenienti da oves lo riferisce una corrispondente in diretta della bbc queste sono le notizie degli ultimi minuti ora riprendiamo invece con la nostra informazione andiamo a ripercorrere quelle che sono le pagine e ma soprattutto le vicende legate all'invasione del paese sotto proprio il conflitto che stiamo continuando a parlare corridoi di morte così li definiscono da che archiva kiev con i civili che cercano una via di fuga dalle bombe russi promettono la tregua anche oggi come confermato nell'ultima di pochi minuti fa nessuno ci crede dicono ancora ci sparano queste sono le parole rispetto ai civili che dicono mentre tentiamo di fuggire come vediamo nelle immagini veniamo raggiunti da bombe e proiettili abbiamo diverse diverse immagini oggi davvero tante nelle prime pagine messaggero vento che raccontano testimoniano proprio grazie giornalisti sul posto la fuga delle persone dai vari paesi ancora profughi si torna a parlare di loro ma soprattutto della fuga verso quella che è la salvezza gloria all'ucraina migliaia di auto sono incolonnate attraversano il paese da est a ovest non sappiamo dove andare ma preferiamo non pensare a niente sono queste alcune dichiarazioni raccolte dai giornalisti ancora la colonna di auto in fuga altre immagini verso la polonia sotto un'anziana a piedi a destra una bimba che proprio pranza così tenta di sfamarsi appoggiata ad un borsone durante la fuga poi il racconto legato al bimbo adam così si chiama questo bambino eroe del quale oggi ne parlano un pochino tutti i quotidiani a 11 anni percorre mille chilometri da solo fino alla slovacchia in tasca la mamma gli aveva nascosto il passaporto e una lettera di ringraziamento vediamo il suo volto bambino ucraino proprio con un agente qui in frontiera a destra con una bevanda e poi sotto la sua mano con il numero dei parenti proprio in slovacchia la missione quasi segreta di salvini segretario della lega in viaggio verso il confine tra la polonia e l'ucraina lo riferisce il messaggero veneto oggi ancora diplomazia quindi erdogan chiama putin vertici a tre in turchia giovedì si vedranno a lavrov e poi lo zar però dice non cedo riguardo alle condizioni voglio la crimea voglio donbass ecco la foto col presidente turco e poi ancora putin proprio in un'immagine recente di archivio il fronte quell'ultimo ponte di irpin se cade per kiev è finita i cari proprio russi hanno occupato il subborgo a nord del fiume è battaglia è un flusso continuo di feriti zelensky dice russi sono cinici resto al mio posto vediamo proprio l'immagine come abbiamo tra il resto visto in prima pagina oggi nei quotidiani nazionali di questo ponte parliamo della città di irpin con militari ucraini che si preparano allo scontro con i russi dopo aver aiutato gli ultimi civili a lasciare proprio la cittadina e metterli in sicurezza draghi torniamo in italia allora sprona l'unione europea gli altri paesi facciano come noi questo il suo invito il premier che invoca la stessa rapidità dell'italia nei sequestri di beni agli oligarchi e poi gli usa che spingono per bandire di per bandire il greggio russo l'italia non è contraria ma chiede garanzie sul gas mentre sappiamo che proprio anche il ministro degli esteri si sta muovendo per garantire delle alternative proprio al flusso del gas nel quale punto ci sia questa ipotesi dello stop il fronte unito dell'occidente dell'occidente il confronto per molinari le sanzioni piegheranno putti nell'allarme di illi sulle imprese fedriga pensa ai profughi dice dobbiamo organizzarci al meglio ancora scrive al prefetto per quanto riguarda assistenza ed accoglienza quando va a sottolineare fedriga i profughi aumenteranno notevolmente ieri sera pomeriggio riferito già 8.000 gli ingressi in italia il cuore del friuli cambiamo ancora pagina ma rimaniamo nell'argomento le raccolte fondi ci sono beni di prima necessità che continuano abbondantemente ad arrivare non si contano più scrive il giornale ora servono medicinali ancora generi alimentari a lunga scadenza la croce rossa e la caritas preferiscono donazioni in denaro poi sotto tante tante immagini oggi un collage circa i punti di raccolta in friuli venezia giulia allestiti proprio anche in un centro commerciale quello di martignacco al città fiera proprio legato all'emergenza ucraina vediamo tante tante decine centinaia di scatoloni tutto ciò che le persone volontari stanno raccogliendo per dare subito manforte ai profughi e poi alle persone che verranno aiutate in loco rincari di energie gas abbiamo quello che poi è l'argomento col quale abbiamo aperto questa mattina le 6 e 30 che occupa lo spazio della prima pagina del messaggero veneto abs blocca la produzione fantoni spegne alcune linee la ceria di carniacco corre subito i ripari con uno stop che però è temporaneo il consigliere delegato barzasi dice resistiamo per non danneggiare clienti e lavoratori insomma l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime ferma l'abs rallenta sia gruppo fantoni di osoppo come abbiamo visto poco fa oggi in intero approfondamento ci sono due pagine legate a questo poi ancora si procede invece a singhiozzo alle feriere nord abbiamo un nuovo fermo dell'acciaieria via la trattativa sulla cassa oggi un altro stop nei reparti a caldo quarta volta ormai dal 25 febbraio ieri iniziata la discussione sulla cigo interesserà circa 370 persone fedriga fa un appello così almeno lo rivolge al governo all'unione europea un nuovo pnr più fondi pubblici presidente chiede uno scostamento di bilancio per sostenere le imprese in attesa dell'europa nella pagina accanto oltre all'appello di fedriga vediamo dai bambini di cernobil a quelli di kiev antonio galbagna accolto in regione decine di bimbi in fuga dal disastro nucleare e adesso proprio in via gli aiuti direttamente lì in ucraina a pochi giorni nello scoppio della guerra accompagnato dal nipote demetro è immediatamente partito per la polonia i primi 55 profughi da minscan arrivano a mo giudinese nel 92 l'anno dopo sarebbero già stati cinque volte tanti la discesa dei contagi usciamo per un attimo dal conflitto ci torneremo poi in un secondo momento che le notizie dell'ultima ora parliamo ancora di covid 19 con questo titolo che fa subito intuire un colpo di coda del contagio secondo gli esperti il virus sta rialzando la testa aumentano i casi di covid 19 in italia così come sta avvenendo in olanda pure in svizzera il governo invia una roadmap intanto sulle riaperture legato al bollettino del friuli venezia giuglia sono sempre pochi fortunatamente i ricoveri gli ingressi negli ospedali terapie intensive rimangono ferme a nove posti letto occupati tra un po ci occuperemo proprio di posti letto di sanità in friuli ma in particolare nell'azienda asov di udine ora uno sguardo subito anche i territori legati a trieste provincia e gorizia grazie al piccolo saltiamo le prime pagine sono diciamo così sovrapponibile a quelle che già abbiamo visto e raccontano relazionano quello che è la guerra in europa e ciò che sta accadendo in ucraina andiamo direttamente all'interno con punto notizie dalla città di trieste dall'unione alla fidale in arrivo ingiunzioni a se in realtà per tariffe non pagate al comune nell'elenco anche la pallamano situazione da sistemare entro 30 giorni altrimenti partiranno le cartelle di esatto così vanno a ammonire poi ancora altre notizie per quanto riguarda invece la pagina accanto si parla di triestina che conta di aprire tra aprile e maggio il cantiere della ferrini e poi nelle pagine seguenti si torna a parlare delle strisce pedonali ma soprattutto di sicurezza eccolo qui il titolo che lo riporta via mazzini piazza goldoni l'incrocio verrà modificato l'assessore savino risponde all'input del capogruppo di fd in consiglio medao non servono le cantenelle sui marciapiedi commissionato uno studio ad hoc dice al giallo di liliana resinovic se ne parla anche oggi l'avvocato del fratello di liliana sostiene ci sono altre persone che bisognerebbe sentire gentile depositerà in procura una memoria nei prossimi giorni va esplorato anche l'aspetto psicologico vediamo le due foto a sinistra liliana resinovic cadavere ritrovato il 5 gennaio 2022 proprio nel parco dell'ex oppi san giovanni a destra il volto dell'avvocato che abbiamo da poco letto nel titolo è ancora una notizia da trieste o meglio siamo a mugia in giunta la delega per il benessere degli animali abbiamo una novità nell'esecutivo della giunta polidori l'incarico di dare risposta alle esigenze in particolare di proprietari di cani e gatti affidato all'assessore orlando aree di sgambamento e ripristino fido lido queste sono le sue richieste almeno gli annunci in provincia di gorizia subito andando a salutare le persone collegate con noi pure da questo territorio e anche l'isontino vediamo come apre proprio all'interno delle cronache il quotidiano il piccolo si parla subito di edilizia residenziale investimenti ater per 9 milioni sono in arrivo 134 alloggi popolari saranno interessate le vie pola campagnuzza trento e c'è un ostacolo riportano la carenza di materiali e manodopera questo potrebbe essere un possibile freno da valutare la lotta all'inquinamento va in archivio la zona anti smog goriziani ligi ci sono solo due sanzioni limitazioni che erano state imposte proprio per i vericoli pre euro 4 muzzati dice che servono più controlli le regole alla fine però sono state rispettate come abbiamo appreso dalla notizia si cambia pagina ancora festa della donna oggi 8 marzo abbiamo pure una mostra e un concorso contro la violenza e la disparità azione corale del comune della consigliera di parità dell'associazione sos rosa esposizione in vetrina alla sala ad ora bassi torna gorizia femminile singolare subito a monfalcone con l'occupazione sub giunis le prospettive alla nidec dialogo aperto azienda sindacati l'ultima commessa di 13 motori per il catar finisce giugno in ballo le uscite incentivate dai lavoratori abbiamo l'ultima seduta del mandato apriamo con l'immagine la vediamo anna maria cisint e poi ancora in alto morsolin che ribatte alle accuse del sindaco ma il titolo è questo la prima variazione di bilancio accende la sfida cisint morsolin il sindaco e la causa a 2a i soldi andavano spesi per la città la rivale dice vinto grazie al nostro tavolo e ronchi non ne scorda don renzo un anno fa il decesso a causa del covid 19 riportano ci ha insegnato la memoria presentata la riedizione di osam ritrovato dall'ex parroco a san lorenzo don sudoso dice questi canti dei profughi sono la nostra tradizione vediamo le foto legate alla notizia e ancora ai ronchi dei legionari la polizia municipale con il rinforzo punta al controllo dei camion ultime due pagine legate all'isontino la prima è il consiglio comunale a cormons laghetti box di so e fruizione dell'area due iter differenti l'assessore russiani afferma il via libera a ripresto ambientale spetta alla regione il piano particolare giato invece spetta al comune e abbiamo invece le ricerche della persona scomparsa ne abbiamo già parlato abbondantemente anche nell'edizione di ieri nelle prossime nostre trasmissioni continueremo a farlo i cani fiutano la pista di manera parte il setaccio in un canalone parliamo dell'uomo scomparso l'uomo di 66 anni si chiama oreste manera gradese del quale insomma ci sono ancora poche speranze scrive il quotidiano il piccolo di trovarlo in vita è un ex giardiniere comunale proprio sui monti di taipane è scomparso il collega facchinetti lui è un amante della natura l'assessore bonaldo si trova anche lui sul posto con diversi sopralluoghi mentre continuano le ricerche dove l'auto era stata ritrovata in campo di bonus dove appunto la opel corsa di colore grigio è rimasta parcheggiata vediamo a completezza anche l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per le ricerche poi sotto proprio quei cani che hanno fiutato pare apparentemente una traccia che porta direttamente ad un canalone oreste manera che si continua così a cercare il scorpo sperando ancora di trovarlo in vita con questo ci fermiamo solo un attimo ripartiremo tra meno di due minuti con le notizie dell'ultima ora che continuano ad arrivarci in redazione sui nostri schermi stiamo seguendo in diretta la situazione della guerra in ucraina abbiamo già riferito diverse notizie questa mattina faremo il punto la più importante è pronti a cessare il fuoco questa mattina dice la russia lo confermano alle 8 italiane ore 10 di mosca ci sarà lo stop il cessato al fuoco per consentire corridoi umanitari seguiremo la notizia in tempo reale ancora tra pochissimo ora piccolo break piccola pausa si ferma così la prima parte della nostra rassegna la prima mezz'ora tra un po ripartiremo anche grazie ai vostri messaggi che ci stanno arrivando a tra poco allora io do ancora il buongiorno alle persone che rimangono collegate con noi quindi quanti ci stanno seguendo su facebook ancora youtube streaming web grazie a tutti grazie per le stelle che ci sono state donate per i messaggi le condivisioni e quant'altro vedo ancora whatsapp che continuano ad arrivare prima di andare a preparare anche il gazzettino giornale col quale ripartiremo saluto anche angia da polcenigo chi mi dà il buongiorno buongiorno roberto a te tutti gli ascoltatori della tisana festa della donna doveroso pensiero alle donne ucraine che hanno dovuto lasciare tutto genitori mariti e figli per difendere la loro libertà ciao d'angela geratana buongiorno angela troppo leggo il tuo messaggio anche in televisione grazie per quanti ci stanno scrivendo e stanno testimoniando vicinanza verso tutte le donne e famiglie insomma che stanno lasciando l'ucraina in fuga buongiorno roberto tanti auguri a tutte le donne ciao cara buongiorno anche a te tra un po ritorniamo anche con i messaggi allora consentitemi solo un momento di preparare il gazzettino come avevo detto poco fa e le preoccupazioni del presidente fedriga saranno proprio la notizia col quale ripartiremo dice fedriga i profughi aumenteranno notevolmente scrive al prefetto per fare il punto della situazione dice il governo è in ritardo circa questa accoglienza che sarà imponente insomma importante ancora altre messaggi mamma quanti anche questa mattina tanti legati al conflitto in ucraina altri invece con i messaggi di auguri verso tutte le donne 8 marzo 2021 io lo ricordo anche se lo dico più volte perché si è collegato tardi ancora tanti auguri affinché sia una giornata importante non solo oggi ma che ci ricordi che ogni singolo giorno dell'anno insomma le donne vanno rispettate in toto a 360 gradi sia l'ambito lavorativo in famiglia e poi in altre situazioni così come oggi hanno riportato diversi commenti riflessioni nei giornali tiziano campigotto che in regia il nostro super tecnico mi dice roberto tra 5 secondi torniamo in diretta sul digitale terrestre canale 11 riparte la rassegna stampa buongiorno queste news e cappuccino e pro si apre la seconda parte di quella che la nostra edizione odierna 8 marzo 2022 con l'augurio di tutto cuore davvero sincero a tutte le donne telespettatrici che ci stanno seguendo finché sia o sì una giornata importante ma che ci ricordi che debbano esserlo proprio tutti i singoli giorni dell'anno con rispetto proprio per le donne sia in ambito di lavoro ma poi anche nelle famiglie e quant'altro grazie per i tanti messaggi che continuano a arrivare abbiamo saluti angela di polcenigo ancora che ci scrive ma ancora buongiorno roberto a te a tutti i telespettatori dalla tisana oggi festa della donna doveroso pensiero alle donne ucraine che hanno dovuto lasciare tutto genitori mariti figli per difendere la loro libertà questo è un bel messaggio di vicinanza proprio alle persone in fuga alle donne in fuga con bimbi dall'ucraina che arriva dalla tisana da angela geratana che ci scrive in rigorosa diretta buongiorno angela e così ci associamo questo tuo bel messaggio di cuore che hai voluto così scrivere inviarci proprio con la vicinanza a loro tra un po andremo a leggere altre notizie stiamo seguendo in tempo reale anche le news che ci arrivano proprio dall'ucraina ma nel frattempo andiamo anche a completare la lettura delle principali news della regione friuli venezia giulia grazie al gazzettino ci sono tutti i riflessi sulla guerra legati alla nostra regione tra questi si continua a parlare di profughi che aumentano governo in ritardo fedriga chiama i prefetti fedriga si dice preoccupato in quanto questi flussi aumenteranno notevolmente ieri pomeriggio riferisce già 8 mila persone entrate in italia serve un vertice urgente scrive gazzettino per organizzare l'accoglienza per differenze provinciali nessuna risposta ancora dal governo da roma sull'invio dell'esercito come chiesto da fedriga alla frontiera chiede ancora tamponi e vaccinazioni che però tardano ad arrivare questo potrebbe essere un problema anche sanitario dice il presidente prima ragazzina ucraina tra i banchi domani a caneva l'ingresso in classe l'abbiamo letto ieri mattina proprio ragazzi verranno integrati profughi insieme proprio agli alunni che già frequentano le nostre scuole solidarietà ed aiuti per la comunità coinvolgono anche caneva siamo in provincia di pordenone dove domani mattina la bimba più piccola lei ha 12 anni sarà presentata ai suoi compagni di classe il fratello più grande inizierà invece a frequentare le superiori di pordenone ancora solidarietà non solo a scuola eccolo qui da tutto esaurito ciriani per ora basta aiuti fin troppa generosità la definisce il sindaco di pordenone ciriani dei 150 profughi ucraini censiti in friuli figli degli ultimi arrivi 40 sono proprio a pordenone il materiale promesso da aziende cittadini è sufficiente a garantire l'alloggio negli appartamenti del comune insomma quanto è arrivato come ora vi mostriamo nelle immagini davvero tantissimi pacchi doni che sono appunto giunti dalla stessa popolazione per la massima solidarietà ai popolo in fuga e così in rifugio da noi quando il friuli disse no al suo rigassificatore il titolo della pagina seguente del gazzettino l'impianto doveva nascere a trieste oggi aiuterebbe a superare la dipendenza da mosca tondo dice tornando indietro direi sì seracchiani giusto fermarlo e privilegiare il porto poi c'è un alert un allarme per gli hacker russi anche la nostra regione potrebbe essere sotto attacco in via così un decalogo per proteggere gli enti e i comuni la guerra tra russia e ucraina è già uscita dai confini geografici delle operazioni militari il gruppo hacker internazionale anonymous ha puntato mosca ma c'è un severo timore anche come abbiamo visto per il friuli venezia giulia oggi 8 marzo ancora rinnoviamo gli auguri a tutte le nostre telespettatrici che ci stanno seguendo c'è chi dice che è una giornata inutile nel senso che non dobbiamo farci prendere in giro e che tutti i giorni nell'anno sono importanti lo afferma la medaglia d'oro della resistenza la prima paracoduttista italiana ha 98 anni alle spalle di battaglie non mi sono mai sentita femminista che io sia un uomo o una donna non significa nulla vediamo pure il suo volto parliamo di paola del din medaglia d'oro al valor militare per le sue azioni durante la resistenza ancora oggi in prima fila per la libertà in tutti i suoi aspetti oggi quasi un'intera pagina legato a questo ma torniamo al bollettino del covid 19 che avevamo solo visto di sfuggita diciamo così nel messaggero veneto colpo di code invernale del covid nelle regioni abbiamo un lieve rialzo dei contagi al quale non corrisponde in alcun modo l'aumento dei ricoveri l'epidemiologo fabio barbone nella nota sotto riportata dice segnale non buono rialzo del contagio ma i ricoveri in reanimazione continuano a calare sono solo nove i posti letto occupati nell'intera regione fvg e ancora si procede per quanto riguarda ulteriore informazione abbiamo le ultime due pagine il gazzettino la prima il caso del crematorio a paderno l'iter congelato fino ottobre la gara d'appalto per l'impianto di nuovo sospesa al consiglio di stato l'udienza in merito si trà il 29 settembre trasporti a richiesta in valdegano non lo facciamo per risparmiare sono le loro dichiarazioni e poi per l'otto marzo abbiamo lo screening gratuito il friuli celebra la giornata di oggi riflettendo sui numeri in crescita ma anche troppi soffitti di cristallo dicono ancora da sfondare secondo i dati del centro sud cia imprese a guida femminile in regione sono attive soprattutto nel commercio servizi alle famiglie alle imprese e primario e ancora con questa notizia che poi viene ben approfondita si parla di peste suine imprese in allarme per prezzi il comparto in allerta con ripercussioni sull'attività che già approvata dalla pandemia dalla crisi che stiamo vivendo ieri la questione è stata al centro anche di un vertice tra regione e gli esperti che si sono proprio confrontati in merito ora torniamo invece nel messaggero veneto dove ci eravamo fermati dopo l'analisi un po' un riepilogo quello che è la situazione della guerra del conflitto in europa andiamo invece in città a udine per qualche minuto vediamo subito l'immagine legata all'ospedale santa maria della misericordia il titolo riporta meno posti letti in emergenza l'azienda siamo pronti al dialogo lettera di protesta da parte di medici che ritengono penalizzati i reparti dedicati all'urgenza operatori sanitari degli ospedali sempre più in affanno allo stremo non c'è stato nemmeno il tempo di tirare il fiato dopo l'ultima ondata del covid che nel pronto soccorso i reparti della medicina aggiurgenza è calata la scura del riordino dei posti letto questo quanto loro oggi vanno a dichiarare a rappresentare legato al disagio si parla di latte materno il virus non fa paura l'anno scorso trattati 1700 litri dati questi sul dono in controtendenza rispetto alla media nazionale nonostante il calo delle nascite la dirigente della patologia neonatale dice le donne non si tirano mai indietro nemmeno durante la pandemia questa è una buona notizia nei quartieri da parco inclusivo ora così a spazio per eventi sarà recuperato il giardino didattico si punta una progettazione che coinvolga le realtà locali il consiglio di san paolo santo svaldo si alle idee concrete questo l'articolo affrontato poi invece nella pagina accanto sempre per un in via battisti dietro il banco della macelleria vendeva cocaina è stato arrestato notizia di cronaca mentre proprio vendeva la carne dietro al banco della sua macelleria scrivono nelle prime rive preparava le dosi della sostanza stupefacente si tratta di un afghano i tre stanni residenti in città che è stato accompagnato alla casa circondariale di via spalato a udine abbiamo il lutto è morto a 95 anni danilo dal bo curava la pubblicità del messaggero oggi il giornale lo ricorda con un'immagine un articolo a lui dedicato nato a udine nel 1926 avrebbe compiuto i proprio 96 anni alla fine di aprile noi ci fermiamo solo un attimo vediamo ancora un'ultima notizia poi faremo un piccolo stop eccolo qui bando tempio crematorio a paderno gara sospesa fino a settembre l'avevamo visto anche oggi in prima pagina fissata l'udienza il consiglio di stato dopo il ricorso della rt rimasto esclusa il nome del vincitore dopo più di un anno alla presentazione delle domande allora come anticipato piccolo break poi ripartiamo che la notizia dell'ultima ora in diretta riguardo al conflitto in ucraina e poi torniamo anche ancora con vostri messaggi se volete potete continuare a scriverci il numero rimane sempre in sovra impressione a tra poco grazie angela grazie a voi mi ha risposto che gentile allora torniamo con gli amici che rimangono collegati per un ulteriore minuto proprio in intera e quindi social web facebook youtube e poi streaming grazie a voi che ci state continuando a scrivere mentre invece in televisione sul canale 11 abbiamo minutino di pubblicità questo ci consente di preparare poi la ripartenza dato il mezzo eccolo qui ripartiremo proprio dalla montagna faremo un percorso andremo a ripercorrere quelle che sono le principali notizie dalle province sia di udine che di pordenone legate al messaggero veneto abbiamo sempre uno sguardo fisso sulle notizie dell'ultima ora che ci arrivano dalla ucraina questo l'ho detto più volte ma per ricordarvi che non è solo rassegna stampa legata alle notizie locali regionali ma abbiamo insomma uno sguardo un pochino più ampio su quello che sta accadendo tra un po' torneremo pure con quelle ancora messaggi innanzitutto ringraziamenti alle persone che ci hanno donato un po' di stelle alla mariana tutti gli altri che tutti i giorni mi scrivono e sono i fedelissimi tra l'altro anche sostenitori della pagina dall'altro abbiamo i whatsapp che arrivano come quello di luigi che mi scrive da pordenone dice roberto ogni mattina triste notizie speriamo di uscirne presto intanto tanti auguri per la festa delle donne oggi 8 marzo buongiorno luigi buongiorno a pordenone coloro che sono collegati con noi anche da quella provincia e quanti si stanno associando proprio come lui ha fatto e tanti altri poco sotto rispetto proprio agli auguri a tutte le donne come già abbiamo letto nei giornali come già abbiamo riportato non solo nella giornata di oggi che sia in qualche modo insomma solo uno spunto per ricordare che vanno rispettate ricordate tutti i giorni dell'anno anche così con il saluto alle persone che sono collegate con noi di sesso femminile detto questo tra luigi da pordenone vedo che ho il tempo forse di ancora qualche secondo di leggere qualche altro messaggio poi riprenderemo l'informazione in diretta anche sul digitale terrestre abbiamo il messaggio di luana che mi si vede a portoguaro quindi un saluto anche gli amici del veneto orientale collegati con noi sappiamo che anche lì il segnale è presente quindi ci spingiamo fino a sandona di piave circa ma insomma luana ci dice buongiorno che sia una giornata di sole pace per tutte le donne ma soprattutto quelle in fuga dall'ucraina grazie luana per il tuo messaggio profondo e di vicinanza a chi sta fuggendo da quei territori adesso tiziano mi dice roberto ripartiamo sul canale 11 news cappuccino brush riparte siamo all'ultimo spazio nostra disposizione l'ultimo quarto d'ora circa di questa edizione di oggi 8 marzo 2021 sono tanti whatsapp i messaggi che contendono arrivi ad arrivare proprio così in redazione davanti al nostro monitor rispetto alla vicinanza e poi ancora gli auguri per la festa della donna ma soprattutto alle popolazioni in fuga come il messaggio che arriva da luana che ci si vede a portoguaro che dice roberto buongiorno sempre triste notizie ma oggi giornate importante massima vicinanza è un ricordo per le mamme bimbi in fuga dall'ucraina e poi ancora ricordiamoci che è una giornata importante non solo oggi ma tutti i giorni dell'anno messaggio profondo l'ho letto in esteso proprio che ci arriva da luana che salutiamo così come tutto il veneto orientale eventualmente collegati con noi lei che ci si vede a portoguaro ripetiamo ancora 30 secondi un minuto le notizie dell'ultima ora che sono giunte in redazione dalle 6 e mezza del mattino dando il saluto ancora a tutti quanti sono collegati con noi anche quanti sono durante la replica che appunto ci seguono chieve ucciso un alto comandante russo a kharkiv è una notizia appunto arrivata questa mattina presto notizia la cui veridicità non può essere ancora verificata in modo indipendente è stata rilanciata da vari social ucraini compreso il kiev su un tweet in cui si dice che geramov era stato decorato per aver compiù conquistato la crimea poi ancora abbiamo altre notizie la russia che ha confermato il pronti cessare il fuoco questa mattina russia ribadisce se con una nota ufficiale verificata di essere pronta a cessare il fuoco per consentire corridoi umanitari in ucraina dalle ore 10 di mosca alle ore 8 in italia lo riferisce la bbc citando media statali russi che riportano dichiarazioni ufficiali del ministero della difesa il cessate il fuoco locali interesseranno diverse c'è tra tra i quali kiev e poi anche mariupol ed altre proprio come è successo nella giornata di ieri quando poi però alcuni civili hanno detto ci sparano mentre stiamo fuggendo ultima cosa della notte bbc che riporta forti esplosioni udite odessa nella città portuale del sud dell'ucraina sono stati udite quattro forti esplosioni provenienti da ovest ci è stato detto sono state causate dal sistema di difesa ucraino che ha battuto militari russi lanciati da una delle numerose navi da guerra situate a largo della costa qui così hanno riferito in una nota queste le notizie dell'ultima ora che stiamo tenendo sotto controllo sott'occhio rispetto al conflitto noi ripartiamo però con il messaggero veneto andiamo con la provincia di udine ripartiamo dalla montagna in questo caso dal tolmezzo comune sotto i 10.000 abitanti gli ex rendano parte dello stipendo calo dei residenti e comporta anche meno contributi c'è chi chiede di portare gli eletti da 20 a 16 resi a un incendio boschivo nella località di brice in azione l'elicottero poi gli investimenti invece della regione a sauris a modernate piste sciovia si punta sui prodotti di nicchia insomma sauris comunità del friuli venezia giulia che conta eccellenze produttive capaci di far conoscere la nostra regione a livello anche internazionale pagina accanto ad amaro cadde dalla bici per una radice il comune condannato a risarcire il tribunale ha calcolato in oltre 30.000 euro il danno causato a una ciclista la donna una 71enne veneta aveva riportato la frattura scomposta di un braccio in breve più a destra l'iniziativa in primavera la pro glemona riparte dalle serate in viabini e apre anche il tesseramento pagina seguente invece si va subito a martignacco al volante ancora con lo smartphone con cellulare oppure la velocità eccessiva inflitte quasi mille multe nel comune di martignacco sanzioni però che arrivano anche per divieti di sosta patente scaduta abbandono di rifiuti nei campi rintracciate poi tre persone abbiamo l'attività della polizia locale di martignacco 2021 dell'anno precedente riassunta oggi grazie al messaggero veneto in una tabella che va a riportarne pubblicarne tutti i numeri in breve ancora flash riveder cano dalla gestione dei bilanci al voto nell'assemblea l'aiuto alle associazioni poi fagagna chiese cocelle riferimento per ricerca e anche per la didattica a tercento un oggetto a forma di pistola è stato inviato all'assessore beltrame la rivelazione arrivata ieri durante il consiglio è un fatto gravissimo riportano la solidarietà da parte dell'opposizione linda matulli subentra poi a mario pagnotti ritardi sui documenti intanto la seduta è stata rinviata vediamo proprio qui a destra beltrame mentre mostra l'oggetto al consigliere tomada tercento ancora c'è il progetto sunrise contro i maltrattamenti mentre san leonardo sindaco spegne le luci alle ore 23 dobbiamo ridurre i consumi l'aumento esponenziale dei costi dell'energia elettrica e il gas hanno spinto il sindaco di san leonardo antonio comuniero ad adottare questi primi provvedimenti siamo nelle valli del natisone dove le luci si spegneranno alle 11 della sera a pagniacco ci sono delle crepe invece in maggioranza in consiglio salta l'esame del bilancio pesano tre assenze la presa di distanza di fabio gerussi l'opposizione esce salva laura sandrovi dalla bocciatura tavagnacco fondi ricerca di alloggi con il sostegno all'ucraina l'amministrazione comunale di tavagnacco ha organizzato una serie di iniziative per aiutare ancora la popolazione ucraina duramente colpita dal conflitto poi flash ancora a pazian di prato una raccolta di beni di prima necessità per aiutare i profughi si stanno organizzando ancora attività ludico motoria per adulti ed anziani invece l'iniziativa a tavagnacco noi andiamo però a nel medio friulia codroipo si va verso il voto la lega spiazza gli alleati e candida mauro giovedì la presentazione del 52enne manager bozzini dice nessuna spaccatura pd un nostro nome con lista e simbolo vediamo l'immagine di gianluca mauro codroipese di 52 anni di professione manager già amministrator delegato presidente della pallacanestro trieste a squarciare l'attendismo del centrodestra è stato un messaggio del del referente locale del caroccio ezio bozzini che ha convincato quindi militanti per giovedì alle 20 e 30 ancora progetto politico basta con i giochi di potere così nasce codroipo al centro sempre codroipo medio friuli condizioni di lavoro sono insostenibili abbiamo l'allarme del sindacato new sind sulla sp moro situazione loro denunciano davvero drammatica per le condizioni di lavoro insostenibili in cui sta operando il personale della casa del riposo che lavora con organici dicono ridotti proprio allo stremo san giovanni al natisone iniziative da coordinare attivata la consulta comune associazioni andiamo invece nella chiusura con la bassa friulana si riparte da torviscosa abbiamo monticolo che gestirà i lavori pubblici ruolo di vice sindaco a ulian assessorati a zaninello vergnagnassi a modio ratifica del consiglio proprio di lunedì prossimo a cervignano una nuova sede dell'auser nasce un centro servizi dedicato al volontariato e a san giorgio di nogaro sono stati risparmiati 9 milioni di euro ora ci saranno interventi sia per le scuole sia per la ziac circa 9 milioni palmanova sosta gratuita le mamme in arrivo i permessi rosa questa l'iniziativa che oggi viene così lanciata pubblicizzata anche dal messaggero veneto si chiude con sempre bassa friulana siamo a la tisana la differenziata porta a porta si pensa ora una raccolta integrale sistema utilizzato a udine al vaglio della neo costituita commissione ambiente l'assessore dice l'obiettivo è quello di ridurre la quantità di rifiuto almeno nel giro di cinque anni poi abbiamo riassunto la differenziata la tisana in totali di rifiuti raccolti urbani 2020 poi il metodo quello punto cassonetto stradale porta a porta e centro raccolta oggi se ne parla ampiamente all'interno dello spazio dedicato sempre a la tisana allineando un piano per reciclabili meno spazio le auto più sicurezza a ronchis un aiuto ai giovani coltivando la terra si chiude con merano lagunare ci sono oltre 100 volontari che hanno ripulito le rive come vediamo nella foto accanto quindi persone che sono così hanno dato una mano per la pulizia per quanto concerne un vero e proprio container che all'interno hanno trovato di tutto reti da pesca plastica polistigolo gomme da trattore e tanto altro poi che hanno consegnato e conferito nelle varie discariche ora invece un'attenzione particolare per chi ci segue dal spazio un pochino più a occidente andiamo un pochino più a ovest a destra tagliamento con porle non e città e l'intera provincia poi con tutti i comuni limitrofi quello che analizziamo grazie ancora sempre al messaggero veneto e andiamo proprio a ripercorrere insieme sfogliando quelle che sono le pagine che oggi troverete anche in edicola appena piantati già sostituiti si parla di sei alberi in piazza della motta gli aceri campestri sono stati ricollocati ai laghetti di rorai la forma non avrebbe fatto ombra ai pedoni vediamo pure le immagini che raccontano l'intervento che abbiamo appena letto proprio nel titolo solidarietà non manca si parla ancora in consiglio comunale dall'aula per l'ucraina ma sul pnr si litiga ciriani aumento del debito con ficoni forza italia e lega d'accordo chiedono il nuovo comando della polizia municipale poi diventa un caso ancora in altro caso ulteriore sono proprio quelle delle violazioni delle norme antincendio inagibili 70 posti auto in centro dal 2008 manca un certificato in una rimessa comunale ai condomini italia gli amministratori hanno scritto a sindaco e prefetto ciriani ha firmato un'ordinanza vediamo uno degli ingressi proprio dell'autorimessa del complesso italia la facciata che da su viale trento a pordenone area comunale in comina concessione revocata all'aeroclub perde altar e la costituzione declinata fumetti una guida per coinvolgere i ragazzi questa è l'iniziativa presentata a palazzo gregori su un progetto della storica società operaia racconto proprio per immagini in collaborazione con la regione il comune e anche il paf i sindacati compatti alle istituzioni attivate le politiche di genere cgl cis le will l'impatto covid è stato pesante dichiarano le differenze si sono ancora più accentuate non mancano però gli esempi positivi il caso delle poste sempre più rosa in provincia lo ricordo in particolare in questa giornata dell'8 marzo dedicata proprio alla donna a porcia abbiamo la crona che invece il malore sul campo da tennis è stato salvato dallo staff si tratta di un uomo 65 anni si è accasciato al suolo mentre giocava lo sporting rianimato da michele derrick martin guidati proprio dalla sores la denuncia il pd e bene comune il percorso vita ora ci costa 300 mila euro poi notizia in breve un'altra iniziativa abbiamo l'uscita con l'anteas l'assessore de piero dice grazie a tutti i volontari accorde non se plastic free perché sono stati così rimossi anche qui 130 kg di immondizi e rifiuti un gran risultato lo hanno definito e poi abbiamo invece l'intervento dei vigili del fuoco per una villetta andata in fiamme a fontana fredda ieri mattina verso le ore 9 diverse squadre dei vigili del fuoco di pordenone non solo sono intervenute per fuoco appunto e fiamme in una villetta l'intervento e pronto intervento dei vigili del fuoco sono così riusciti a scongiurare l'estensione dell'incendio ad altre parti della abitazione a sacile ne rilanceremo la sanità piano importante si parla di 22 milioni di euro federica e riccardo lo annunciano ufficialmente nella giornata di ieri faremo la casa della comunità l'ospedale di comunità e la cot della centrale operativa territoriale a sacile ancora polimeni dice il presidio di cura intermedia e porterà 64 nuovi posti letto altre 12 alla via di natale poi altri ulteriori posti letto ad aviano si dice soddisfatto spagnolo è un progetto importante speriamo che i lavori partano già nel anno in corso parliamo del 2022 vediamo un frame uno scatto un'immagine insomma della presentazione da sinistra ancora polimeni poi fedriga e riccardi che presentano questo importante imponente piano della sanità da oltre 22 milioni di euro proprio per la zona di sacile ma rimaniamo in comune sempre a sacile margherite rose per l'addio invece a francesca ora corre in cielo la runner che è stata travolta e uccisa proprio da un'automobile l'ultimo saluto ieri in duomo alla podista investita don papa dice lascia un grande esempio di altruismo amore lei che appunto della corsa del runner aveva fatto la sua passione anche con importanti vittorie vediamo integrazione due immagini ancora legate all'ultimo saluto a francesca manfre che lascia due bambini uno di 10 di 15 anni oltre al marito queste sono le foto che vanno a riassumere integrare ancora iniziative ripuliamo la città il consiglio dei ragazzi raccogliere i fiuti quindi un plauso ancora ai giovani di sacile che si sono dedicati alla pulizia dell'ambiente ad aviano centro-sinistra chiede chiarezza su tempi e costi della nuova biblioteca a cane ma vanno in pensione due medici di famiglia saranno sostituiti questa è la domanda che fanno due medici quindi in pensione dall'altra parte subito pronta l'interrogazione chiedendo se ci saranno o meno disagi vediamo il sindaco di nuovo papà nella foto leggiamo il titolo sotto fiocco azzurro in casa d'olfi per appunto il municipio di brugnera sindaco renzo d'olfi diventato papà per la seconda volta venerdiscorso alle 11 e 20 abbiamo visto anche in sintesi un'immagine che lo ritrae con la moglie e ancora con il piccolo azzano decimo abbiamo le ultime due pagine a nostra disposizione per il messaggero mercato dei forti di marmi divide candidati e cittadini per piccini il commercio locale è stato penalizzato dalla sua presenza in piazza secondo guini invece ha costituito un'opportunità per gli operatori e anche per i consumatori a cesarolo muore a 56 anni oggi funerali era originaria però di pesci in canna deceduta a 56 anni a udine dove era in attesa di un trappianto si chiamava loretta camton donna abitava in località prati nuovi a cesarolo di san michele al tagliamento vediamo il volto di loretta andiamo a chiudere con l'ultima pagina andiamo a san vito al tagliamento sicurezza si rafforzano video sorveglianza organico dei vigili sette nuove telecamere installate tra via malteo e via famrici avviato l'iter per poi assumere un commissario e anche un agente verso il voto a casarsa parte la corsa sindaco a casarsa la sfida è tra claudia e claudio vediamo lì nella foto claudia tomba centro sinistra claudio colossi proprio del centro destra con questo noi ci fermiamo grazie per averci seguito fino a qui si chiude l'ennesima edizione legata a una rassegna stampa quella speciale dell'otto marzo ancora con l'augurio a tutte le nostre telespettatrici donne che ci hanno seguito sintonizzate con noi grazie anche a tiziano campigotto che si è occupato della parte tecnica in regia noi ci riaggiorniamo se volete più tardi alle 8 e 30 poi con i prossimi aggiornamenti in diretta grazie alla redazione ma ancora dal lunedì al venerdì puntuali in diretta alle 6 e mezza del mattino buona giornata